Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Stora Combo Italia. Un po' più di un mese fa avevamo fatto un gioco, avevamo preso una battaglia del Trono di Spade, di Game of Thrones, della serie tv ovviamente, e avevamo provato ad analizzare dal punto di vista storico ma soprattutto dal punto di vista tattico. Bene, all'epoca avevo detto che due secondo me erano le sole battaglie della serie che si potevano analizzare, perché ben mostrate, perché l'elemento magico era sotto un certo punto di vista secondario rispetto al combattimento fra umani. Bene, queste due battaglie erano una la battaglia di Winterfell che abbiamo già analizzato la volta scorsa ma trovate il link in descrizione e una era la battaglia dei Bastardi, battaglia che si svolge nel nono episodio della sesta stagione. Prima di iniziare questo gioco che ho intenzione di fare con voi oggi due piccoli appunti. Il primo è che la battaglia dei Bastardi è una battaglia rappresentata in una serie tv. L'idea di poterla analizzare dal punto di vista storicamente plausibile ma soprattutto dal punto di vista tattico è ovviamente estrettamente un gioco, non ho nessuna volontà di polemica e mi rendo perfettamente conto che in realtà ciò che gli sceneggiatori devono fare è offrire un prodotto che sia divertente, che sia visivamente impattante e che insomma porti avanti la serie e attiri degli iscritti per la HBO. Perché in realtà, letteralmente iscritti perché la gente si iscrive e paga per vedere la HBO, un po' come facciamo noi su Sky. Non stavo parlando di YouTube. Quindi insomma la tattica passa ovviamente in secondo piano ma credo che sia molto interessante provare a vedere, esattamente come per la battaglia di Winterfell, se ci sono delle cose che pur essendo spettacolari sono troppo esagerate, troppo sbagliate, tanto da distrarre un pochettino l'occhio da ciò che avviene. Il secondo punto che voglio dire è molto chiaro. Questa battaglia avviene nel nono episodio della sesta stagione. Se state guardando Game of Thrones e non siete ancora arrivati a questo punto, se volete, dovete ancora iniziarlo, ovviamente non guardate questo episodio. Perché fin dall'inizio conterrà tantissimi spoiler su tutta la trama degli episodi precedenti. Quindi lasciate perdere e fermatevi qua. Tornate a vederlo dopo che avrete visto l'episodio. Bene, iniziamo. La battaglia dei Bastardi è una battaglia che è molto interessante da analizzare perché fin dall'inizio mostra due situazioni molto diverse tra i due contendenti. Una situazione che in effetti nei fantasy capita molto spesso è quella che da una parte vi sia un esercito più grande, più numeroso, più forte, classicamente l'esercito del cattivo, dall'altra ci sia un esercito più piccolo, l'esercito del buono, tra virgolette, quello che è destinato a vincere nonostante l'inferiorità numerica. Bene, questa è sostanzialmente la situazione di questa battaglia, dove da una parte ci sono le truppe dei Bolton, di Ramsey Bolton, che sono numerose, ben armate, ha una miglior cavalleria, più numerosa, ha un maggior numero di arcieri, ha una fanteria migliore perché dispone di fanterie professionali, armate di scudo, ne parleremo poi dopo, e soprattutto in generale ha un esercito molto più numeroso. Dall'altra parte ci sono le forze di Jon Snow, che raduna alcune delle casate rimaste a lui fedeli al nord, ma sono, bene, più che a lui fedeli agli Stark e quindi a Sansa, e raduna un esercito di bruti, che venuti dall'altra parte della barriera combattono in maniera, appunto, brutale, molto, molto semplice, quasi mai hanno degli scudi, sono più adatti a un corpo a corpo, ad una rissa, che a delle vere manovre di un esercito. Io non me ne ero completamente dimenticato, ma rivedendo l'episodio mi sono accorto che tutti questi aspetti vengono in effetti quantomeno vagamente analizzati prima della battaglia stessa. Quando Ser Davos fa notare a Jon Snow il fatto che il suo esercito sia inferiore a quello nemico, abbia meno possibilità di movimento, e che forse sarebbe avvantaggiato qualora, invece di attaccare l'esercito dei Bolton, si limitasse a difendersi, dicendo, e lo dice chiaramente, dopo aver scavato delle trincee che gli diano un vantaggio contro la cavalleria. Bene, l'idea è intelligente. Il fatto di voler scavare delle trincee la sera prima di una battaglia, un pochettino meno, perché le trincee, soprattutto sul terreno duro, come quello di invernale, di grande inverno, l'inverno come si diceva, stava arrivando, sono ovviamente molto difficili da scavare. E quindi è difficile pensare che si possa fare una cosa del genere. Sarebbe stato molto più sensato, un po' come nella battaglia di Asincur, andatevi a rivedere la pillola che è dedicata, pensare di piazzare dei pali di legno a una certa distanza. Certo, non ci sarebbe comunque stato il tempo per piazzarne molti, ma si sarebbe potuto creare una piccola barriera soprattutto per spezzare le cariche della cavalleria. Tutto questo non viene fatto, non solo non viene fatto, ma al momento in cui inizia la battaglia si vede chiaramente che l'esercito di Jon Snow esce dalla foresta per andare incontro al nemico, che lo sta aspettando invece su una piana completamente piatta. Bene, questo in realtà sembra dire che Ramsey Bolton è uno stratega, mentre Ser Davos e Jon Snow sono due idioti, perché Ramsey si piazza in una pianura laddove le sue truppe possono manovrare più facilmente e soprattutto la sua cavalleria non ha ostacoli. Mentre invece Jon Snow, che d'altronde essendo l'inferiorità si aspetta che sia Ramsey ad attaccare e potrebbe aspettarlo all'interno della foresta, dove i suoi bruti potrebbero essere avvantaggiati sulla fanteria, ma soprattutto dove gli arcieri e la cavalleria dei Bolton sarebbero svantaggiati, preferisce uscire per andarlo ad affrontare esattamente nella piadura. Tutto questo, ovviamente, perché una battaglia nella foresta sarebbe stata molto interessante e molto meno manovrata di quella che uscì. Ma questo rimanga come appunto. L'inizio della battaglia è stato criticato da molti. L'idea che Jon Snow si lanci all'attacco seguito dalla cavalleria, ma andando sostanzialmente a scatafascio ogni idea di difendersi sembra veramente un artificio letterario. In realtà, nella storia, molto spesso avvengono queste battaglie di incontro, in cui i due eserciti iniziano a combattersi e man mano aumentano di numero, perché magari solo una parte si è incontrata e poi si crea una vera e propria battaglia. O molto spesso è capitato di battaglie che i generali avevano pensato in un certo modo di far avvenire, scoppiare in un certo modo e che poi sono fortemente mutate. Pensate ad esempio alla battaglia di Austerlitz e alle idee degli austriaci, che avevano delle idee ben chiare su come attaccare Napoleone e che si sono visti invece attaccati da Napoleone stesso e poi sconfitti sul prazzo. Insomma, questo storicamente avviene. Quello che secondo me, invece, dell'inizio della battaglia è molto assurdo è la carica dei cavalieri dei Bolton. Proviamo a raccontare cos'è successo. Rickert viene liberato, Ramsey cerca di colpirlo con le frecce e in effetti lo colpisce, Jon Snow si lancia in avanti per cercare di salvarlo e quando le frecce lo sfiorano, la cavalleria di Jon Snow, la cavalleria dei ribelli, si lancia dietro di lui, iniziando una carica diretta verso i Bolton. Ora, a questo punto ci sono secondo me due grossi errori. Il primo errore è che la fanteria non segue la carica. Ora, e ovviamente il piano non era quello, il piano non era di utilizzare la cavalleria minore, che era minore il numero, per attaccare quella dei Bolton, ma a quel punto era l'unica cosa da fare. Non potevano perdere Jon Snow, ne avrebbe ovviamente perso la loro causa e per questo è sensato che la cavalleria carichi. Ma perché Ser Davos fa aspettare la fanteria indietro invece che andare a dare supporto alla cavalleria, cosa che avrebbe avuto un senso fare? Ma soprattutto, dall'altra parte, che diavolo fa a Ramsey? Fino a quel momento era stato perfetto. Aveva scelto il punto dove combattere, aveva spinto il nemico, non nonostante fosse l'inferiorità numerica, ad attaccare e a questo punto sancisce che questi vantaggi che si è preso, lui li vuole perdere. Allora, la cavalleria di Jon Snow carica. Ovviamente, si vede chiaramente dalla serie, c'è molto spazio tra le truppe dei Bolton e la cavalleria che sta caricando. Eppure Ramsey, che ha degli ottimi arcieri, lo dimostrerà successivamente, non ordina che questi lancino sulla cavalleria. Ma piuttosto fa avanzare la propria cavalleria per andarla ad attaccare. Non è un vero errore, ma non ha nessun senso. Perché non iniziare a cercare di sfoltire la cavalleria, che peraltro è palesemente non una cavalleria pesante, ma è armata e soprattutto protetta un pochettino alla buona. Perché non provare a sfoltirla con gli arcieri prima di caricare? Vabbè, diciamo che contava sul fatto che la sua cavalleria fosse in maggior numero e più forte. Nel momento in cui caricano le cavallerie, peraltro, ve lo lascio come appunto, c'è una delle scene che a me sono piaciute di più. Perché probabilmente i figuranti che rappresentavano materialmente la cavalleria erano dei professionisti, persone che probabilmente si occupano di quello o che fanno delle rievocazioni storiche e cavalcano e caricano in maniera molto 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 realistica. Il peso è ben bilanciato, le lance sono alla giusta lunghezza, insomma assomiglia in tutto per tutto a una carica medievale. Quello che non assomiglia a una guerra medievale è però ciò che avviene dopo. Le due cavallerie cozzano, le due cavallerie si scontrano e nessuno dei due pensa di tenere una parte separata per poter magari fare una manovra di aggiramento o prendere sul fianco il nemico, soprattutto Ramsey, e in superiorità numerica che senso ha lanciare tutte le sue truppe in un attacco uno contro uno? Non ha nessun senso. Ma a questo punto Ramsey fa la cosa più assurda. Allora, gli sceneggiatori volevano far capire che Ramsey è cattivo e quindi cosa gli fanno fare? Prendere i suoi arcieri, quelli che prima non hanno tirato sui cavalieri di Jon Snow, e iniziare a lanciare frecce sulla massa di cavalieri che combattono. Cioè, in questo modo i cavalieri che siano dei Bolton, che siano dei Jon Snow, che siano degli Stark, inizieranno a morire come mosche e lo faranno in maniera talmente esagerata che un minuto dopo, ma letteralmente un minuto di battaglia dopo, non ci sarà più un solo cavallo a combattere su tutto lo schieramento. Insomma, in poco meno di un minuto Ramsey Bolton ordina il massacro della cavalleria di Jon Snow, ma anche della propria. Ma perché? Hai una cavalleria che è superiore in numero, aspetta che vinca la battaglia, ma soprattutto perché ti devi privare della tua forza migliore? Cioè, stiamo parlando di uno scenario similmedievale, la cavalleria era la regina dei campi di battaglia, nessuno l'avrebbe sacrificata in questo modo. La cavalleria vinceva le battaglie. Provate a pensare un pochettino cosa è successo ad esempio a Tannenberg, dove alla fine, benché alla fine intervenissero anche le fanterie, furono le cavallerie, sia quelle dell'esercito teutonico, ma anche quelle polacco-lituane, a guidare la battaglia. Insomma, perché in questo caso si preferisce sacrificare la cavalleria, che è superiore e può vincere, quindi perdere un vantaggio, perché a quel punto si avrebbe avuto una cavalleria mobile su un terreno adeguato per poterla utilizzare, che avrebbe potuto attaccare da più lati la fanteria nemica. Perché perdere questo vantaggio? Non ha nessunissimo senso. Una volta avvenuto il massacro della cavalleria, che ripeto, l'intera cavalleria del nord viene massacrata in un minuto, ma pazienza, si arriva verso lo scontro delle fanterie. Ora, lo scontro delle fanterie è qualcosa che la mia mente aveva cancellato. Io mi ricordavo la manovra dei lanceri con scudo dei Bolton che vanno ad accerchiare completamente l'esercito degli Stark. Questo mi ricordavo. Mi ricordavo una situazione assurda, in cui l'esercito dei Bolton è così tanto numeroso da poter completamente accerchiare su più file di soldati l'esercito degli Stark. Con una manovra che a dir poco barocca è allucinante. Soprattutto è allucinante pensare che gli Stark si facciano accerchiare in questo modo perché ciò avvenga, in un mondo in cui non ci sono armi da fuoco, perché ciò avvenga, l'esercito dei Bolton deve essere, credo, come minimo 4, 5, 6, 7 volte superiore a quello nemico. Un esercito del genere non ha bisogno di una manovra così barocca perché non ha alcun senso. Andando a rivedere però la scena mi sono accorto di due particolari. Il primo particolare è che a tutti gli effetti gli Stark avrebbero un'arma per ribaltare la situazione. La si vede meglio alla fine dell'episodio ma quell'arma è il gigante. Il gigante, lo si vede combattere anche nella scena in campo lungo, combatte coi pugni. Ora, hai un gigante alto 3 metri e mezzo, 4 metri, quanto diavolo è alto quell'essere? Perché diavolo lo fai combattere coi pugni? Perché non tiri giù un albero e glielo dai in mano? Perché non prendi un palo largo così e glielo dai in mano? Se il gigante avesse avuto un palo, semplicemente agitandolo verso i lanceri, avrebbe aperto un varco perché i lanceri sarebbero stati spazzati via a colpi di albero. Non importa. Questo passa assolutamente in secondo piano quando mi sono accorto che in realtà i soldati dei Bolton chiudevano la formazione solo da tre lati e che il quarto lato era chiuso da una montagna di cadaveri. Fermi. Una montagna di cadaveri che a occhio e croce è più alta del gigante e sarà alta 3 metri e mezzo. Ora, quella montagna di cadaveri, teoricamente, ho dovuto rivedere la scena due volte per capire cosa diavolo fosse, deriva dallo scontro tra le cavallerie. Ora, in quale modo le cavallerie sono arrivate a morire a 4 metri di altezza? Che caspita è stato uno scontro tra cavalli volanti che combattevano man mano cadevano e si ammucchiavano? No, ma che senso? Ma quando mai si può creare un muro di corpi? Ma avete visto 300? Ma guardatelo bene 300, perché anche in 300 il muro di corpi, che peraltro è un muro con dei corpi all'interno, ma lasciamo stare, anche in 300 il muro di corpi viene creato, cioè prendono i corpi e li ammucchiano uno sull'altro. Ma chi è che ha creato quel muro? Ramsey ha detto ok, fermi tutti, passiamo tre giorni, perché ci vorranno dei giorni a fare una roba del genere e creiamo dei giganteschi muri di corpi umani. Ma che senso ha una roba del genere? Ma soprattutto, ma quanti morti ci sono lì sotto per fare una cosa così grossa? Un muro di corpi umani. Vabbè, lasciamo stare, non vi sto a dire che ovviamente tutto questo è realistico. Ora, che un numero di caduti molto alto possa offrire sotto un certo punto di vista una protezione è una cosa reale. Ad esempio, abbiamo parlato martedì scorso dell'inizio della battaglia di Stalingrado, abbiamo parlato della casa di Pavlov. Ebbene, la casa di Pavlov, molto spesso, i sovietici di notte uscivano per andare a rimuovere i corpi dei tedeschi che avevano ucciso nel cortile e nello spazio antistante la casa perché altrimenti i tedeschi avrebbero usato quei corpi come copertura. Ma non dei muri di corpi, dei singoli corpi con un altro sopra, insomma un numero decisamente limitato. Questa scena non ha alcun senso. A questo punto le truppe dei Bolton accerchiano e iniziano materialmente a spingere quelle di Joe Snow, che vengono peraltro attaccate anche dalle truppe degli Umber, che sbucano da questo muro di corpi, non si sa esattamente come, e scendono nello spazio sotto. Ma perché? Ho capito che vuoi far arrivare allo scontro tra John Umber e... non so se John Umber vorrebbe avuto una stupidaggine e John Snow perché è spettacolare, ma non ha nessun senso che gli Umber che sono in una posizione di superiorità e potrebbero semplicemente ricacciare verso il basso le truppe nemiche debbano scendere a combattere con loro in uno spazio ristretto, peraltro poi rischiando di morire anche loro schiacciate. Non ha nessun senso. Ma vabbè, a questo punto succede quello che risolve la situazione. Dal nulla, letteralmente dal nulla, arriva la cavalleria della valle, arriva la cavalleria degli Arryn. Ora, questo arrivo della cavalleria è assolutamente e del tutto insensato. Primo, è insensato che Sansa non abbia detto a John Snow, guarda, tra sei ore arriva la cavalleria, perché Sansa lo sapeva, dato che è andata ad aspettarla. Perché non gliel'ha detto? John Snow avrebbe potuto semplicemente rimandare la battaglia, cercare di rallentare l'inizio della battaglia, rimanere strettamente sulla difensiva, ancora al bosco, ma lasciamo stare, sfiancare se possibile le truppe dei Bolton affinché poi la cavalleria pesante, questa volta una vera cavalleria pesante, li potesse annientare. Invece tutto questo non avviene. Perché non glielo dice? Che senso ha? Vuole vedere massacrare le sue truppe per poi essere preda di dito corto? Non lo so. Ma soprattutto, Ramsey, come fa a non accorgersi dell'arrivo delle truppe nemiche. Non esiste da nessuna parte del mondo, quei cavalieri non sono sbucati dal nulla. Ramsey avrà lasciato 10 soldati di sentinella per evitare una manovra di aggiramento, perché per carità in questa battaglia nessuno pensa di fare un aggiramento, ma con un bosco la cosa più logica sarebbe stato tenere una parte delle proprie truppe per cercare di utilizzarle di sorpresa per colpire laddove il nemico era più scoperto. Ramsey, nonostante la superiorità numerica che ripetiamo nella fanteria e mostruosa, non ha lasciato 10 uomini in cima alla collina per avvertire con un corno quando vedono arrivare un nemico? Perché? A questo punto la cavalleria frantuma completamente la fanteria, che prima erano degli scudi impenetrabili, qua non riescono neanche a girarsi per fronteggiare, la fanteria ma tant'è. La battaglia si chiude in questo modo. Se devo essere sincero mi rimarranno due cose. La prima è il fatto che la battaglia nella sua parte iniziale è comunque piacevole, è ben studiata, tutta la parte che la prepara secondo me è molto molto ben preparata, molto molto realistica e poi muore. Muore negli arcieri dei Bolton che attaccano anche la loro cavalleria, va bene essere cattivo ma esagerato, muore nel gigante senza una mazza, che senso ha? Hai un bombardiere e gli fai sganciare delle arance praticamente, ma soprattutto muore nei muri di corpi umani. Va bene voler essere fantasiosi, ma un muro di corpi umani alto 4 metri? No, quello no. Soprattutto se diventa uno strumento che trasforma la battaglia in un certo modo, perché senza quel muro di corpi umani le cose sarebbero andate molto diversamente. E allora no. Allora è un artificio insensato. Allora piuttosto veramente aumenta ulteriormente la fanteria e fa li circondare completamente. Avrebbe avuto molto più senso. Tra l'altro si nota che in alcuni particolari, dove probabilmente non sono intervenuti direttamente gli sceneggiatori, ma coloro che curavano le comparse, alcuni particolari sono molto ben studiati. Andatevi a rivedere, ci sono dei fotogrammi in cui si vede chiaramente che la fanteria dei Bolton non è tutta uguale, ma in realtà coloro che davanti portano lo scudo non imbracciano una lancia, imbracciano una spada e la usano per ricacciare indietro coloro che attaccano. Sono quelli nelle seconde e nelle terze file ad usare le lance per schiacciare e infilzare in avanti. Una cosa peraltro secondo me molto realistica, così come la carica di cavalleria e tanti altri piccoli particolari. Bene, spero che questo gioco vi sia piaciuto. Ditemi anche voi qui sotto cosa ne pensate, ovviamente con tutti i dubbi del caso. Ci vediamo domani con un'altra pillola di storia. Io come al solito vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili e molto più realistiche però di quello che è stato raccontato qua e che sono più fantastiche e più belle di quelle che qualunque scrittore e qualunque sceneggiatore potrà mai mettere nelle loro opere. E se volete iniziare a curiosare tra queste opere, tra queste storie, qui a fianco. Ce ne elenco delle pillole uscite fino adesso. Noi ci vediamo domani con un'altra pillola, sarà poi venerdì, dopodomani, con Lucronia. A presto, ciao ciao!